Nessun risentimento ma solo tanta delusione e la presa di coscienza di non essere più desiderati in un partito che evidentemente non tollera il dissenso. Per i consiglieri regionali Simone Angelo Sante, Antonio Di Gianvittorio e Emanuele Marcovecchio è il giorno dei chiarimenti dopo le travagliate vicende che hanno portato prima all'espulsione artificiosa di Marcovecchio e poi alla conseguente autosospensione da un partito che nega il dialogo dopo quella che per Angelo Sante è stata una prova di forza muscolare. Così i fuoriusciti della Lega entrano nel gruppo misto in regione con Valore Abruzzo come componente di maggioranza capitanati dallo stesso Angelo Sante che in conferenza stampa ripercorre e chiarisce le ragioni di uno strappo ormai irricucibile. Se cinque consiglieri regionali, cioè metà del gruppo regionale della Lega in regione Abruzzo chiede un incontro al leader nazionale anche con la presenza ovviamente del coordinatore regionale Luigi Deramo, per migliorare l'azione politica del partito sia a livello del governo regionale che dell'organizzazione territoriale io non ci vedo nulla di strano. Se questo non viene concesso ma c'è un fuoco di sbarramento, il documento viene pubblicato non da noi e ci sono poi azioni come l'espulsione del consigliere Marcovecchio e le pressioni fatte su Montepara e Laporta vuol dire che non c'è nessuna volontà di dialogo e a distanza di 15 giorni la nostra dignità vuole che noi ne prendiamo atto. Io rispetto, voglio bene umanamente sia ad Antonietta Laporta che all'amico Fabrizio Montepara. Capisco la loro posizione perché oggettivamente loro, essendo consiglieri regionali surrogati, sono più alla mercè di alcuni giochi o pressioni politiche. Per i tre fuoriusciti, da oggi nel gruppo misto in regione con la scoccia e i cipolletti, nessuno incarico e nessuno assessorato da rivendicare ma solo l'interesse degli abruzzesi in un momento politico particolarmente delicato. Non siamo etichettabili né manovrati da nessuno, chiarisce il capogruppo Angelo Sante di Valore Abruzzo che rivendica con orgoglio l'impegno per la costituzione del gruppo della Lega in Abruzzo. Vedete, io ho fondato la Lega in Abruzzo nel 2015, sono stato il primo coordinatore regionale, dopo di me c'è stato l'amico Giuseppe Bellachioma. Alla Lega ho dato l'anima perché nel 2015 fondare la Lega non era una cosa, una passeggiata in Abruzzo. Mi ricordo ancora oggi gli sberleffi e vi dico che nel 2015 ho dovuto faticare e non poco per portare l'onorevole Luigi Deramo all'interno della Lega. Noi non rivendichiamo assessorati, non rivendichiamo ruoli, noi siamo qui per continuare a svolgere il nostro lavoro secondo il mandato che ci è stato dato dagli elettori. Capiamo benissimo che pur avendo i numeri per richiedere assessorati, per richiedere altre posizioni eccetera, ma non è certamente questo il momento. Non possiamo permetterci il lusso con crisi politiche in questo momento di mettere in difficoltà la regione. Sicuramente non voglio fare proselitismo, ma è certo che un grosso malcontento c'è in giro. Grazie. 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 Grazie.